Salve a tutti da casa del papi, c'ho un problema, Totino quando viene spazzolato con la coda non bisogna toccare, guarda, non si può toccare, guarda, vedi, vedi, Toto, vedi, guarda che faccio capire a tutti che tu sei feroce, eh, Toto, vieni qua, te voglio bene io, Totino, te voglio bene, Toto, Toto, te voglio bene, guarda, vedi che è farci un civotto, Toto, te voglio bene, Toto, 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 eh, regà, io c'ho paura, eh, domenica mattina e vorremmo finirla bene sta domenica mattina e quindi non lo tocca, Totino, tutto questo succede a casa del... Toto, che c'è? Guarda a me Der papi Basta gengivotto, basta